Il presidente della BCE Mario Draghi fa ancora affidamento sul potere delle parole piuttosto che su nuove politiche monetarie, lascia i tassi di interesse invariati al minimo storico, rinnova la full guidance, avverte le banche di tenere in ordine i bilanci e invita i governi a lavorare su stabilità e riforme. Dalla riunione e conferenza stampa di ottobre della BCE con Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi in collegamento internet a Milano. Ciao Fausto, bentornato ragazzo. Grazie, buonasera. Dunque iniziamo dalle banche. A settembre Draghi aveva detto che la BCE era pronta ad agire ancora, se necessario, per fornire liquidità al sistema bancario con un altro giro di long term refinancing operations. LTRO, cioè quelle operazioni di rifinanziamento a lungo termine con cui la BCE ha già passato oltre mille miliardi di euro alle banche tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. Adesso, nella conferenza stampa di ottobre, Draghi ribadisce che la porta della liquidità per le banche è sempre aperta, senza però annunciare alcun movimento. avverte che queste operazioni di LTRO, nel caso arrivassero, non sono una soluzione per i problemi di capitale delle banche. Le banche devono prima di tutto tenere i loro bilanci in ordine, dice Draghi. Dunque Fausto, come mai il Presidente della BCE si preoccupa ancora così tanto del settore bancario? La ragione è molto semplice, il settore bancario fornisce il credito che è la benzina dell'economia, se manca la benzina la macchia dell'economia non può andare, quindi è fondamentale che il sistema economico abbia la benzina del credito. Draghi ha detto in maniera precisa che non vuole che ci sia nessun incidente di liquidità tra adesso e il momento in cui ci sarà la ripresa in Europa, quindi ha garantito che le banche non avranno problemi di rifinanziamento, potranno quindi riuscire ad avere il credito dalla Banca Centrale Europea fino a quando ovviamente ci sarà questa benedetta ripresa a livello europeo. Ma ha anche detto che naturalmente esistono anche il problema del capitale delle banche. Le banche come sappiamo in Europa hanno avuto delle perdite, in alcuni casi legate al settore immobiliare, sappiamo bene che lo scoppio della bolla immobiliare ha creato dei buchi enormi nei bilanci delle banche, ad esempio in Spagna e questo quindi ha creato un problema, ha ridotto il capitale. Più in generale la recessione che oramai stiamo sperimentando da vari semestri rende difficile anche per le imprese riuscire a ripagare i prestiti che hanno il contratto con le banche e quindi le banche hanno dei crediti incagliati, delle sofferenze e naturalmente questo ha un effetto negativo anche alla fine sul capitale delle banche. Quindi questo è uno dei problemi delle banche, la capitalizzazione e non per niente Draghi ci ha ricordato che nella prossima conferenza stampa della BCE che ci sarà a metà ottobre si parlerà in maniera più chiara, più dettagliata del programma di asset quality review che verrà fatto per le banche europee. In altre parole cercare di capire, di fare l'equivalente degli stress test sulle banche americane e in realtà sappiamo bene che questo esercizio è già stato fatto sulle banche europee ma non ha funzionato molto bene e una delle ragioni per le quali non ha funzionato bene è che mancavano i capitali pubblici eventualmente per ricapitalizzare le banche che avevano dei problemi. Questo sarà uno dei punti cruciali, capire in altre parole se ci saranno dei capitali pubblici eventualmente disponibili per riuscire a ricapitalizzare le banche che si trovano in questo momento in difficoltà, altrimenti se scopriamo che le banche hanno problemi e non possiamo farci niente, questo è un esercizio che rischia di essere controproducente, quindi quello sarà un passo cruciale, ma sono certo che di questo parleremo a metà ottobre. La Banca Centrale Europea, fra l'altro, due volte l'anno va via da Francoforte per fare la sua riunione, questa volta era andata a Parigi e l'ha fatta anche non di giovedì, perché di solito la riunione della BCE e poi anche la conferenza stampa è sempre di giovedì, l'ha fatta invece di mercoledì a Parigi, perché giovedì era una vacanza in Germania. La Banca Centrale Europea nella riunione del Consiglio Direttivo di Ottobre ha discusso un eventuale taglio dei tassi di interesse, ma ha deciso di lasciarli invariati al minimo storico dello 0,5% per il quinto mese consecutivo, dopo averli tagliati di un quarto di punto lo scorso maggio. Nella conferenza stampa Draghi insiste con la cosiddetta forward guidance, cioè dà indicazioni sulla futura politica monetaria della Banca Centrale Europea, con l'intenzione di non sorprendere, con l'intenzione di rassicurare investitori, mercati, banche. Dunque, perché Draghi insiste tanto nel dire che i tassi di interesse rimarranno bassi per un extended period of time, dunque un esteso, un prolungato periodo di tempo? Ricordiamoci che il mandato della Banca Centrale Europea riguarda solo la stabilità dei prezzi, quindi in teoria deve riguardare solo l'inflazione. Draghi ha ricordato che da quel punto di vista in realtà l'inflazione a livello europeo è circa l'1,1%, quindi ben al di sotto del 2%, che dovrebbe essere l'obiettivo. Ma sebbene quello sia l'obiettivo, l'unico obiettivo, l'unico mandato della Banca Centrale Europea, Draghi ha sempre fatto capire che altre considerazioni che riguardano il bill europeo, la crescita, l'occupazione, sono in realtà rilevanti per le sue decisioni. Quello che ha detto Draghi è essenzialmente che la ripresa in Europa si comincia a intravedere, non dappertutto in Italia, come sappiamo le previsioni sono ancora quelle di una crescita molto, molto debole per il 2014, ma a livello europeo dovrebbe essere una crescita, ma ha fatto capire che ci sono ancora dei rischi di incidenti che potrebbero bloccare o rallentare la crescita. Questo ovviamente è qualcosa che Draghi non vuole, ha sottolineato che ci potrebbero essere dei problemi, ad esempio con la domanda a livello globale, quello che ha detto delle minacce che sono ancora possibili sulla strada della ripresa dell'economia. Quindi ha voluto assicurare che non ci saranno problemi per quello che riguarda la politica monetaria. La politica monetaria continuerà ad essere estremamente accomodante per un periodo di tempo sufficientemente lungo, sostanzialmente fino a quando la ripresa in Europa sarà piuttosto solida e stabile. Draghi ribadisce che i tassi di interesse del mercato, il riferimento più ovvio qua perché parliamo sempre di tassi di interesse, è ai rendimenti delle obbligazioni statali, cioè quanto uno Stato, per esempio l'Italia, paga per finanziarsi, per trovare i soldi, per attirare gli investitori a comprare il suo debito. I tassi di mercato, dice Draghi, sono un segnale di come i governi agiscono con le necessarie riforme economiche, cioè le riforme non si fanno e i tassi del mercato salgono, i rendimenti sulle obbligazioni salgono. Le riforme si fanno e allora invece i tassi del mercato scendono, questa è la logica espressa da Draghi. Il messaggio dei mercati è chiaro e molto semplice, dice Draghi, stabilità e riforme. La pressione maggiore deve venire dall'interno, le riforme devono essere fatte perché sono necessarie e non perché sono causate dalla pressione del mercato, come abbiamo visto ad esempio alla fine del 2011 con l'arrivo del governo Monti. Chissà se Draghi pensava all'Italia. Comunque, stabilità e riforme sono la via d'uscita dalla morsa del mercato. Alla domanda sull'Italia, Draghi ha risposto in modo generico dicendo che ha fiducia nell'Italia e quindi non ha ovviamente il suo ruolo, quindi non ha detto niente di specifico sull'Italia e quindi da quel punto di vista immagino che potesse avere anche in mente l'Italia ma non l'ha esplicitato. Per quello che riguarda ovviamente i tassi che vengono pagati, abbiamo visto che in realtà lo spread si è ridotto dopo l'OMT, quindi sappiamo che una delle variabili fondamentali è stata l'OMT, c'è la disponibilità della Banca Centrale Europea a comprare i titoli dei paesi dell'Eurozona. Quindi in questo periodo il ruolo principale di determinare il livello di spread è stato giocato dalla Banca Centrale Europea. Ma una volta che usciremo da questa emergenza, da questa situazione in cui ovviamente è la Banca Centrale Europea a giocare questo ruolo cruciale, bisogna capire cosa si fa nel lungo periodo. A breve quello che è fondamentale per uscire da questa recessione europea, o quantomeno per uscire più velocemente, sarebbe in realtà una politica fiscale più espansiva della Germania. Nel breve periodo l'Italia non ha grosse, il governo italiano può fare ben poco, non ha delle leve da usare nel breve periodo. Quindi nel breve periodo sarebbe importante che da parte della Germania ci fosse una politica fiscale più espansiva che potrebbe quindi alimentare la domanda aggregata in tutta l'Europa. Vedremo adesso se il nuovo governo Merkel andrà in questa direzione, ne dubito, ma quella potrebbe essere la strada. Naturalmente le riforme sono importanti, sono importanti che vengono fatte riforme nel mercato del lavoro, nel mercato del prodotto, la giustizia, però queste ovviamente hanno un impatto nel lungo periodo. Non è qualcosa che possa produrre i suoi effetti da qui a un anno, da qui a due anni. Quindi in qualche modo i governi nazionali dei paesi che sono in difficoltà in questo momento si trovano ad avere poche leve a disposizione, a dover prendere delle provvedimenti, delle riforme che sono impopolari nel breve periodo, che non danno effetti immediati. Questo è un problema molto serio perché spiegare l'utilità di queste riforme in lungo periodo dopo mesi, anni in alcuni casi di recessione è molto complicato. Quindi questo è il vero rischio. Il rischio è che se non c'è a livello europeo una serie di misure che aiuti nell'immediato, quando in questo periodo questi paesi che sono in difficoltà, a rilanciare l'economia, ad aumentare l'occupazione, anche la capacità di fare delle riforme che sono utili nel lungo periodo venga meno. C'è questo equilibrio delicato sostanzialmente, in cui ciascuno paese deve fare le riforme, ma ciascun paese da solo nell'immediato, a parte la Germania, ma i paesi di difficoltà nell'immediato possono fare ben poco per aiutarsi. Qui deve essere la BCE che sta facendo la sua parte, dovrebbe essere l'Europa a fare la sua parte. Il rischio è che questo delicato equilibrio si spezzi e quindi che ci sia una specie di rigetto verso le riforme. L'idea che non servono a niente, che in ogni caso l'Europa equivale solo a sacrifici e che quindi non c'è bisogno di fare riforme nel dato del lavoro, sul dato del prodotto, ridurre la spesa pubblica, ridurre l'attestazione, perché ricordiamoci che in Italia quello che sarebbe veramente imperativo sarebbe ridurre la pressione fiscale. Questo è il vero punto, le riforme sono necessarie, ma sono qualcosa che non darà frutti nell'immediato, a breve, e l'emergenza in realtà è molto forte, la sofferenza delle famiglie e delle imprese è molto forte adesso e quindi sarebbe importante che ci fosse un segnale a livello europeo che potesse riuscire a mitigare la sofferenza di famiglie e imprese e non rinviarla troppo in lato. Grazie, Fausto Fanuzzi, professore di economia politica dell'Università Boccoli da Milano, e a voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima. Grazie. 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 Grazie.